In tanti hanno raccolto l'appello di Mauro Messeri, il noto avvocato del Foro di Arezzo che in età matura ha scoperto la passione per il ciclismo. C'era da festeggiare un grande anniversario, quello della vittoria di Franco Chioccioli al Giro d'Italia del 1991. E la tappa cult dove il coppino di Pian Disco fece il vuoto fu quella del Pordoi. Giornata epica anche per gli appassionati di ciclismo nostrani perché nessun corridore della nostra provincia era arrivato così in alto nella corsa ciclistica più importante d'Italia. Per festeggiare ci voleva un gesto clamoroso, riportare i chioccioli su quelle strade e di nuovo rifare la scalata. Così è stato, le riprese le ha fatte in corsa proprio Messeri che ha carpito anche le impressioni dell'ex corridore. Siamo all'ottavo tornante, era la meno salita quando la facessi l'altra volta. Sì è vero, mi sembrava pianura, però mi sa che qui hanno fatto lavori, hanno riportato della febbre, hanno scavato. Il Pordoi non è certo una salita agevole, forse Chioccioli era quello meno allenato, ma alla fine il risultato è stato raggiunto. Una grande giornata per una grande impresa. Grazie. 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 Grazie.